Adesso finisco di mangiare, poi mi metto a finire il video di quel lavoro che ho fatto un paio di settimane fa con quel catering E poi andrò a prendermi caffè, palestra, poi stasera proverò a fare le foto, editare le foto che ho fatto ieri Ah, ora che ci penso devo anche scongelarmi magari qualcosa per la cena, potrei farmi del salmone stasera Potrebbe essere finalmente il momento di un pochino di pesce, perché sennò non lo mangio mai Insomma questa è la vita, oggi volevo stare un pochino più rilassato ma alla fine per un motivo o per l'altro sono sempre impegnato Sempre a impazzire con queste cose e basta, stavo ancora pensando al fatto che mi hanno derubato ieri Infatti adesso io ho sempre utilizzato la carta e neanche la carta Apple Pay alla fine, ho sempre parlato con Apple Pay So che nell'ultimo paio di mesi ho deciso, ma dai usiamo un po' di contanti, iniziamo ad usare un po' di contanti Però non mi pare una bella idea, quindi adesso mi sa che tornerò alla carta, mi targono il portafoglio, metti 10 euro così Giusto per non rimetterci qualora ci fosse un furto come ieri E niente ragazzi, questa è la situazione, adesso sistemo qua, poi mi metto a lavorare e sapete la storia Sabbia mi sa, come qualche mese fa Uno schifo, infatti c'è il cielo che è tipo giallo Giallo grigetto, no? Uno schifo Uno schifo Ora sto andando al parco che ci sono anche gli altri, dopo devo andare a votare Sono riuscito a fare un sacco di cose, a editare tutti i video che dovevo E adesso mi mancano solo le foto, diciamo, per capirci Oggi palestra La vedo dura Perché, vabbè, ora sono già uscito di casa, però Sarebbe stato comodo portarmi dietro tutti i vestiti da palestra Così adesso sto con gli altri e poi vado diretto a fare allenamento, no? Solo che non l'ho fatto Che ti è servito oggi per vincere? Non è servito niente? Ma sì, 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 tutto fa brodo Siete guardati ultimi? No Che ultimi? Allora, già Abbiamo detto due Su sei? No Due su cinque Ma noi giocavamo C'è con gente che tu non Hai cambiato l'obiettivo? Sono degli occhiali a sole per la macchinetta Hai preso sia quelli per la macchinetta No, ma questi ce li ho da due mesi, tipo Pensa che è una robita Quindi viene tutto scurito? Quanto l'hai pagato questa stronzata? E questo era 49 euro Questa cagata qua Gli hai dati in sconto, spero E cosa intenzio? No, poi è un po' 49 euro Eh sì Dai ma questa roba fotografica te la fanno pagare tanto Eh sì, sì Scusa perché? Perché la sanno fare in pochi Adesso Adesso ti mettiamo un filtro Ma non è così scurito Muovi Ti spiego Muovi la mano così Più veloce Ok Adesso fermo Ok Aspetta Aspetta Lascia le scie Vai Muovi la mano Vedi che è molto più scattosa così Ah sì 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 È molto più scattosa Sì è vero Bene ragazzi Andiamo a votare Obbligo e diritto E mi raccomando Votate bene No, l'importante è votare Però votate Guardavo prima le statistiche Tipo a mezzogiorno c'era solo tipo il 25% di affluenza Alle 4 c'era il 31% Quindi questi europei non è che siano molto sentite Però magari voteranno tutti tardi come faccio io di solito Io di solito vado tipo alle 10 e mezza 11 di sera a votare All'ultimo secondo Tenuto il decimo stemmetto Decimo timbrino E si torna a casa Stasera assolutamente bisogna fare il salmone Che continuo a posticipare Però non l'ho neanche scongelato Quindi Dove sono? 6.52 Dai no lo faccio Lo faccio Quello magari con dei pomodorini Vediamo ora cosa mi salta Mamma mia che capelli Vediamo ora cosa mi salta per la testa Visto che questa come vi ho detto Come avete visto ogni tanto fa dei rumori strani Vibra Non è il massimo Centro assistenza Amazon Questo qua gliela ridò indietro Solo che visto che quando gliela ridò indietro Rimango qualche giorno senza E questo non voglio che succeda Visto che io faccio daily vlogging Di conseguenza ho appena comprato la sostituta Ho preso stavolta la versione combo Quindi c'è anche il microfonino Che non è che sia necessario Perché ho già il microfono esterno Solo che effettivamente quelli che ho io sono un pochino più scomodi di quello lì Perché quello lì è integrato con la DJI Quindi ho solo il microfonino che mi devo portare in giro Mentre quelli che ho io sono un sistema a parte Quindi mi devo portare anche i trasmettitori Insomma non il massimo E di conseguenza ho preso questa Ma arriva domani E nei prossimi giorni Vengono a ritirare quella Insomma questa qua Perché ultimamente mi sta dando dei problemi Cioè a volte va benissimo E a volte invece da Non lo so Senti che vibra Senti che fa rumori strani Non so come mai Però ragazzi A me serve una cosa che funzioni Anche perché la uso tutti i giorni Niente sono curioso E questa è bello Perché avrà anche la videocamera grandangolare Quindi forse un pochino più comodo Per le riprese che cerco io Cioè questa qua va benissimo Solo che se è un po' più Di grandangolo Riesco a vedere un pochino di più Ed è comodo in questo caso E vabbè ragazzi Allora vi aggiungo un pochino come va Adesso io mi sto scongelando il salmone Tra un po' me lo magno tutto Dopo penso di stare a casa Mi guardo un filmetto Sto in chilling Tisanina Vediamo un po' come va Niente Però puttana C'è sta videocamera 700 euro E poi non dite che io non ci tengo a voi Ragazzi a fine stasera ci mangiamo appunto il salmone E qua sto facendo le patate Nella friggitrice ad aria E qui è abbastanza bene Dai stasettimana siamo riusciti a mangiarci La nostra dose di pesce E abbastanza Abbastanza soddisfatto Adesso come sempre un po' di chilling Anzi mi devo mettere lì a modificare le foto del lavoro di ieri E noi ci aggiungiamo dopo E infine così allora Il salmone Questa patina qua bianca che vedete È il limone del giardino E adesso ci metto un po' di maionese Ai signore Maionese Assaggiamo le patate Guardate le patate Ovviamente E sentiamo il salmone Al pepe Cioè io preferisco la carne Però Ha il suo perché Un bel piattino sano questo Dai Buon appetito Ci vediamo dopo E come ogni domenica Adesso facciamo il resoconto della settimana Per vedere se abbiamo ricevuto iscritti Quanti ne abbiamo ricevuti E quant'altro Per iscritti abbiamo ricevuto 3 iscritti negli ultimi 7 giorni Che poi ragazzi sinceramente non capisco Cioè c'è un giorno che ne guadagno 2 Un giorno ne prendo 3 Poi ne guadagno 5 Vabbè Comunque positivo Positivo 7 e 3 iscritti Per quanto riguarda Views Ore Guardiamo ore Nell'ultima settimana 46,4 ore 30% in meno Rispetto a settimana scorsa Insomma Non benissimo Infine Reviews Negli ultimi 7 giorni Abbiamo fatto 997,000 E 27% in meno Rispetto agli ultimi 7 giorni Eh ragazzi Non si può sempre vincere A volte va bene A volte va male Ma ci vuole costanza Nelle cose E quello farà la differenza Almeno è una cosa che Mi dico io Tutte le sere Prima di andare a letto Se no mi metto a piangere C'è il recap settimanale Ho ricevuto 25 shares C'è gente che condivide i miei video 25 shares 5 commenti 72 likes Molto bene C'è bene Insomma No Però Tranqui Tranqui Che ci devo fare Prima o poi ragazzi Esploderemo Prima o poi Ne sono Molto Convinto C'è Ci provo Ah mannaggia Comunque mi sono mangiato Il mio pesce Le mie patate Ero tanto così Da tirarmi fuori un panino Scongelarmi un panino Ah ora che ci ho pensato Mi scongelo anche Un Un croissant Domani mattina a colazione Visto che come sapete Lunedì sono sempre infernali Perché devo editare Questi famosi video Del canale youtube americano Come tutti i lunedì E oltre a quello Basta No solo quello Ah in tutto questo Sono riuscito a editare Le foto di ieri Quelle che ho fatto al lago Nella giostra Ma stasettimana qua Di la verità Impazzirò Tutte le sere Perché lunedì Ve l'ho appena detto Martedì sera Devo andare a cena Sempre che il tempo regga A 50 metri In dinner in the sky Quindi Lì dovrebbe essere Abbastanza una tega Mercoledì Il piano è andare a giocare a bingo Giovedì Mi sparo sushi in vena La sera E venerdì Non ho ne ancora piani In tutto questo Tra qualche settimana Viene a trovarmi Un mio amico tedesco Quindi forse In quei giorni I vlogs saranno Un po' italiano Un po' inglese E vediamo Vediamo Mi devo organizzare E Basta Domani il 10 Il 10 significa Che riceverò Il mio Primo Stipendio Di questo nuovo lavoro Non vedo l'ora Non sarà pieno Perché io ho iniziato Il 9 Quindi comunque Un 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 20% In meno Sicuramente sarà tolto Se non di più Probabilmente un 25-30 Però Vabbè Almeno capiamo Se è un'azienda seria O meno E questo mi rende Abbastanza felice Poi Domani arriverà Anche appunto La videocamera Che ho appena comprato Che sostituirà Quella Che sto utilizzando Ora E mi dovrò Organizzare Per consegnare Indietro Questa vecchia Videocamera Infatti è un po' Un casino Perché io sarò Al lavoro Mentre arriverà Il tecnico Amazon Allora È una cosa Che non faccio mai Ed è una cosa Che non voglio fare Perché mi rendo conto Che è sbagliata Soprattutto quando viene fatta Ripetutamente Non ci sta Però Ho deciso di aprirmi Da solo un pacchetto Di caramelle E me lo sto mangiando tutto Guarda Una vergogna Mmm Buono La tisanina Della buonanotte Noi ci vediamo domani Per un prossimo video Come al solito Mettete mi piace Commentate Iscrivetevi al canale Attivate la campanella E La maggior parte Delle persone che non guarda questi Effettivamente La maggior parte La persone che non guarda questi video Non è iscritta Giustamente La maggior parte La persone che guarda questi video Non è iscritta al canale Quindi per favore Supportatevi Iscrivetevi Non riesco a parlare Quindi per favore Oh Ste farfalle Cioè da dove È la Sesta che uccido io oggi Porca puttana Dove venite? Dalla sedia? Da dove spuntate? Vabbè Le dicevo Ci sono ste farfalle La farina E non ho farina in casa Niente Non riesco a finire un discorso Che sia uno Va bene ragazzi E iscrivetevi Da biribimbarabanci Vi vediamo domani Grazie a tutti Grazie a tutti